Dolore e cordoglio per la scomparsa di Renzo Viganò, 37enne alpinista di Bregnano, morto ieri mattina sulla Concarena, una montagna della media valle Camonica tra le province di Bergamo e Brescia. Viganò, scalatore esperto, era istruttore della scuola Alto Lario e nelle scorse ore proprio i suoi compagni di arrampicate hanno pubblicato sulla pagina Facebook della scuola una foto dell'alpinista lariano con una didascalia. La scuola Alto Lario si unisce al cordoglio della famiglia Viganò per la grave perdita. Ciao Renzo, da tutti gli istruttori, riposa in pace sulla vetta più alta. I funerali sono stati fissati domani alle 15 nella chiesa Santa Maria Assunta di Minoprio, frazione di Vertemate con Minoprio, il paese di cui Viganò era originario.